Xbox One S è la nuova console della famiglia Xbox. Annunciata allo scorso i3 2016 dopo una serie incessante di rumore e speculazioni, Xbox One S costituisce un restyling importante di Xbox One, ma porta in dote anche una serie di nuove caratteristiche tecniche davvero di prestigio, che la rendono la console Xbox più performante di sempre. Partiamo dallo chassis. Xbox One S è circa il 40% più piccola della console originale, inglobando al suo interno il voluminoso alimentatore. Inoltre ci trasporta di peso nel mondo della risoluzione 4K, potendo leggere gli Ultra HD Blu-ray che riprodurre i contenuti 4K sulle piattaforme di video streaming. Inoltre supporta la tecnologia HDR, che consente di gustarsi colori più accesi e un contrasto visivo più marcato. Xbox One S penserà poi ad upscalare la risoluzione dei giochi Xbox One fino a 4K, procedura di norma lasciata ai televisori. Ripensato anche il controller, ora ancora più ergonomico e con una copertura wireless raddoppiata. Infine, saranno diverse le configurazioni dell'hard disk, con possibilità di archiviazione fino a 2TB. Esteticamente brillante e dotata di feature tecniche di primo ordine, Xbox One S si presenta come un appuntamento irrinunciabile per gli amanti della tecnologia.